Sono stati sorpresi con mazza, nastro isolante e casco in testa, pronti per mettere a segno una rapina in una gioielleria. Sono così scattate le manette per tre uomini. È successo il lunedì attorno alle 13 in via Spinello. Un uomo è sceso frettolosamente dallo scooter con il casco integrale ancora addosso ed è stato avvicinato da altre due persone nei pressi dell'ingresso del negozio di preziosi, al momento chiuso al pubblico, ma il cui titolare si trovava all'interno. I carabinieri in zona per controlli, intuite le intenzioni dei tre, li hanno bloccati e identificati. Dalla perquisizione personale sono saltate fuori fascette d'elettricista, nastro adesivo telato, una mazza e un cacciavite di grosse dimensioni. Tutto il materiale è stato sequestrato. Secondo i militari, tre già gravati da numerosi precedenti di polizia erano intenzionati a commettere una rapina. Sono stati arrestati in flagranza per tentata rapina gravata in concorso. Sono reclusi nel carcere a retino di San Benedetto in attesa dell'udienza di convalida.